Il 14 settembre a Borgo San Cesario di Albanella si terrà la giornata per la vita e per Vito, dedicata al piccolo Vito Volonnino, scomparso prematuramente all'età di 5 anni. Parliamo allora di questa giornata per la vita e per Vito. Allora, la giornata per Vito e per la vita non vuole essere, ecco, semplicemente, come dice il titolo stesso della giornata, un momento dedicato a mio figlio Vito. Volevo avere una finalità molto più alta, che è quella di acquistare defibrillatori semiautomatici da destinare a tutta la comunità di Albanella e quindi rendere cardioprotetto interamente il comune. Questo è il nostro obiettivo. In realtà è un'idea che non nasce dal nulla, ma tengo a precisare che ci siamo mossi sull'esempio di un'altra associazione, l'associazione Carmine Speranza di Torri Orsaia, fondata da genitori che come noi hanno perso un figlio in seguito a un arresto cardiocircolatorio e che hanno fatto proprio della sensibilizzazione e della formazione al primo soccorso e all'uso del defibrillatore una ragione di vita. Per questo invito quanti sono sensibili all'argomento, ma tutti, perché purtroppo l'arresto cardiocircolatorio è un evento, una patologia che può colpire tutti, grandi e piccoli, e che molto spesso ci lascia impreparati. Quindi tutti a partecipare, perché il defibrillatore è una possibilità in più. Probabilmente Vito col defibrillatore non si sarebbe salvato, perché Vito aveva contratto una miocardite acuta virale, per la quale neppure il defibrillatore probabilmente sarebbe servito. Però potrebbe aiutare tante altre persone, ed è questo il nostro scopo. Nel pomeriggio il programma prevede animazioni per i bimbi, dimostrazioni dei vigili del fuoco riguardanti la sicurezza e esibizione degli allievi della palestra azzurra, e in serata grande concerto per la vita, con artisti di livello nazionale, tra i quali Fiordaliso e Michele Pecora. Antonio Volonnino, il papà di Vito. Sì, la sera ci sarà questo grande concerto, oltre a questi nomi di livello nazionale, tra i quali Fiordaliso e Michele Pecora, ci saranno tanti altri artisti che forse non hanno avuto le stesse fortune di Michele e di Marina Fiordaliso, ma che sono comunque dei grandissimi musicisti, tra i quali Rotumbe, tra i quali Angelo Loia con il suo progetto Izza, Puccio Chiariello con il quale abbiamo collaborato con Silvia Salemi, Rocco Basile, con un progetto tutto nuovo che si chiama Ricomincio da me, e tanti altri ragazzi anche delle vicinanze, tipo Noi Nomadi, Cristiana e Emanuela Minasi, che sono le due cantanti che in questo momento stanno collaborando con me per piccoli eventi e tante altre serate.